Nato da un'idea un po' balorda di fare qualche contenuto un po' particolare così In 4 e 4 8 abbiamo messo insieme una squad clamorosa E ci andiamo a fare un fine settimana di allenamenti e grossi contenuti Acqua plena! Dunque andiamo là dove c'è un bel tempo Allora io pensavo Un video svegliati dai due ore che sono qua così E dopo che faccio? A te è lui che ha giocato la dama Ciao picco Mattia chiede che sia ambientato bene Mamma mia Siamo stati anche in posti peggiori Fine giornata Fine giornata che è appena iniziata per me in realtà Come siamo a lavori di trasferimento dati? Siamo Sei in buona compagnia vedo Sì Con la birretta Vale? Tutto bene Tutto bene Tutto mangiato Certo? Sì tutto a posto Allora andiamo a salutare i ragazzi Salutate qua il pubblico di Instagram Ciao Instagram Ciao 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 Comitare! Buongiorno Già finito oggi vero? Già finito Guarda come si fa, farmi vedere qui No, un po' Fammi la foto quella di me Passate io Fammi la foto Ah Muoio Buongiorno Buongiorno Però devi fare il video di backstage Qua sono qua con il video di backstage Questa fine è bellissima Ci sei Vi giuro siamo stati super professionali Fino a stamattina Non so qual è stata l'aria del pomeriggio Il sole forse Ah belle belle Te la rifaccio con le mani giuste La pace interdetta di Tenerini Oh Vai la spalla La spalla Vai portarla dentro troppo presto Quando arrivavamo noi giovani queste cose non c'erano No mamma mia queste cose non esistevano E adesso cosa pensi Come un giovane che è un vecchio gli da ordine di fare foto così Però Sono venute bene Sono venute bene dai E beh Dopo questa dimostrazione di ignoranza cosa facciamo? Posso non dire niente Per favore Sì Sì Allora dopo allenamenti seri Adesso oggi sarà allenamento un po' più volto a semplicemente creazione di contenuti multimediali Virali Non che showcase di copini arrossati Sì Perché è il mio Sì Grazie Pizzata casa di Luca Tende e di Gloria Un applauso Vale Un applauso Grazie Grazie Un animale che Dai dai Pronto DAAAAA Che siamo in mano? Oh Oh Vai giù Oh 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 Vai giù Sto facendo la infezza di salire Appena l'acqua che sta in buco del culo Ti fidi me? Ti fidi me? Ti fidi me? Jack 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 Speriamo vi piaccia il video E Mettite like, condividete come sempre Seguite i profili social di tutti Che magari ve li mettiamo qua in descrizione Soprattutto Matteacchinesi che è nato in sidogno Marchettata Ricca senza policità qua Ragazzi